Musica Sono Giuseppe Bertesago, titolare dell'Agriturismo. La nostra struttura collabora con Crepaldi Tour e fa parte del gruppo C-Partner. Offriamo servizi di ristorazione, meeting ed hospitality. Da 2003, giorno dell'inaugurazione, ad oggi abbiamo portato delle modifiche per ascoltare le esigenze della clientela. Gli spazi per ristorazione possono arrivare fino a 200 coperti e sono indicati anche per ricevimenti ed eventi. Siamo fra i pochi allevamenti in Italia a produrre lo storione, tipico pesce d'acqua dolce, che qui viene utilizzato esclusivamente per il nostro ristorante. Che associato ai prodotti di aziende agricole con cui collaboriamo garantiscono una tipicità, un livello gastronomico eccellente. La nostra struttura che è completamente immersa nel verde è dotata di 16 camere con accesso indipendente e con sistemazione da singola quadrupla. Le camere sono dotate di ogni comfort e potete utilizzare il servizio di prima colazione buffet con annesso anche il servizio di ristorazione della struttura. Tanti sono gli spazi esterni, ma il nostro punto di forza è la terrazza che si affaccia sul laghetto, dove potete passare dei momenti di relax. Abbiamo una sala meeting, dalla capienza massima di 150 poste platea. Questa nostra sala è dotata di moderne tecnologie, dispone anche di un ampio parcheggio video sorvegliato e l'utilizzo dei servizi di ristorazione e pernottamento la rendono ideale per questi eventi. Per gli amanti della perca sportiva, la nostra struttura è dotata di un laghetto artificiale, che qui vedete alle mie spalle, in cui è possibile praticare la pesca mosca con la tecnica del sketch and release per la tutela della fauna ittica presente. Abbiamo già detto che qui alleviamo lo storione. Lo pratichiamo in un lago artificiale, con presenza di acqua e di falda naturale, e questo garantisce il massimo comfort per il pesce presente e naturalmente un'ottima qualità per i piatti del ristorante. Siamo all'interno di un territorio turisticamente interessante. Distiamo circa 40-50 km da città come Milano, Bergamo, Brescia, Cremone e Piacenza. Tutte città ricche di patrimoni culturali ed artistici. Quindi se volete vivere un'esperienza unica e interessante, vi aspettiamo qua da noi.